All You Can Eat, l'ultimo singolo di Vinicio Capossela, parla decisamente dell'eccesso della nostra vita moderna e del fatto che tutto quello che puoi mangiare, lui lo intende in maniera molto ampia, tutto quello che riusciamo a consumare. Il consumo è evidentemente una delle ragioni principali che trainano la crisi climatica ed è un tema molto complicato, per questo accoggo molto con favore chi si prende l'impegno di prendere quantomeno un settore di questo enorme mondo e di provare a fare ordine, di provare a ragionarci sopra e di trovare delle connessioni. Credo che sia stato questo l'intento alla base della stesura di questo libro, Primavera Ambientale, che viene presentato quest'oggi a Torino, dopo vi do tutti i dati, ma intanto vi presento Ferdinando Cutugno, giornalista e autore. Benvenuto su Play, grazie mille. Ciao, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti e tutti. Allora, come dicevo, è un libro che si intitola Primavera Ambientale, viene presentato, insomma è disponibile già da diverso tempo, ma oggi viene presentato a Torino, alle 18.30 siamo a Binaria, in via Sestriere 34 appunto a Torino. Io, insomma, quando ad esempio mi chiedevano i colleghi di che cosa tratta questo libro, io dicevo molto generalmente che parla dell'attivismo ecoclimatico, diciamo, però mi rendo conto anch'io che è una definizione un po' troppo semplice rispetto al contenuto di questo libro e quindi ponga a te la domanda, che cos'è che hai voluto affrontare, che cos'è che ti premeva inserire all'interno di questo testo? In realtà, Alessio, la tua definizione è corretta. Il libro parla di questo e prova a metterlo in connessione con altri pezzi del mondo. Io, come giornalista, per il lavoro che faccio, per il quotidiano domani, seguo da tanti anni il mondo dell'attivismo e quello che mi interessava scrivere in questo libro, in Primavera Ambientale, era una lettera. Era una lettera sia agli attivisti e per, diciamo, il lungo percorso che hanno fatto in questi anni, perché noi parliamo di movimenti per il clima che ormai sono nel loro quinto, sesto anno di vita, e dall'altra parte a tutti gli altri soggetti che sono intorno, perché io quello che ho chiesto è libera una richiesta e la richiesta è costruite dei ponti, perché quello che fa l'attivismo per l'ambiente è estremamente prezioso, non può rimanere isolato, non può rimanere solo la protesta dei giovani, non può rimanere solo la protesta degli attivisti. Quindi gli attivisti, in primis, devono imparare a costruire un ponte per uscire fuori dalla propria bolla, ma la politica istituzionale e noi cittadini dobbiamo contribuire alla costruzione di quel ponte, perché questa è la storia di tutti. Il problema del clima negli anni 90 poteva essere il problema del futuro, un problema di prevenzione. Oggi è il problema del presente, va usato il tempo presente ed è la storia di tutti quanti, non è più la storia di salvare la terra, è la storia di salvare le condizioni della vita umana sulla terra e quindi per farlo sulla scala italiana, ma anche sulla scala globale, chi si è preso il mandato di difendere questa possibilità, cioè i movimenti per il clima, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione, deve non procedere da solo, questa è una responsabilità sia dei movimenti sia di tutto quello che c'è intorno ai movimenti, quindi parlo della società civile, parlo dei partiti, parlo di noi come consumatori, come individui, come esseri umani, quindi provare un po' ad allargare quello che intendiamo con attivismo, a volte anche una conversazione con un parente un po' sordo sull'argomento è una forma di attivismo. Tra l'altro tu usi, per definire un po' tutto questo, tu hai una definizione a un certo punto nel libro che in realtà mi fa un po' sorridere perché la butti un po' lì, nel senso non ti ci soffermi sopra e non la esplori, anche se poi la inserisci in un discorso molto più allargato, però secondo me è una definizione bellissima, quella di risposta biologica, cioè che questo è un tema per cui dobbiamo necessariamente superare il sovranismo che purtroppo è sempre più evidente nei paesi che lo dichiarano e nei paesi che non lo dichiarano, insomma l'individualismo estremo e il sovranismo dei singoli paesi non possono aver senso all'interno della crisi climatica e dell'affrontare la crisi climatica, ci va appunto una risposta biologica, come dire, noi dobbiamo reagire come esseri umani nel suo complesso, era questo che intendevi? Assolutamente, e alla fine è la risposta alla domanda che uno si fa quando vede Greta Thunberg, Manessa Nacate, ma anche Papa Francesco con la sua enciclica, laudato sì che l'ha messo fra i grandi ambientalisti del mondo, noi vediamo queste figure e ci chiediamo ma a nome di chi parlano? A nome di un paese? A nome di una generazione? O a nome di una classe sociale? Perché noi siamo abituati a ragionare in questi termini qui, nella nostra società frammentata, ci sono pezzi della società che prendono la parola a nome di un determinato taglio della società che rappresentano e provano a portarne avanti gli interessi. La crisi climatica non funziona così, perché qui è appunto in gioco la possibilità della vita umana sulla terra nei prossimi secoli da un punto di vista biologico, quindi quello che secondo me i movimenti per il clima hanno fatto, non in un modo esplicito, ma secondo me lo hanno fatto, è proprio parlare a nome dei corpi umani, delle vite umane, dell'esperienza biologica che noi facciamo della vita su questo pianeta e per questo sono riusciti a farlo parlando a nome di entità molto diverse, appunto abbiamo il cattolicesimo di Papa Francesco, l'ambientalismo nord-europeo di Greta Thunberg, ma anche l'ambientalismo post-coloniale degli attivisti del sud del mondo. E quindi più il movimento è riuscito ad allargarsi e a uscire dai propri recinti è più è riuscito ad avere questa voce biologica, anche perché noi dobbiamo veramente uscire dall'idea che questa è una storia di ragazzi che portano avanti un tema per ragazzi. Loro si stanno prendendo la responsabilità di portarlo avanti per tutti, è un grande passo, una delle cose che scrivo nel libro e che secondo me è importante, che questa deve diventare la storia di ogni età. Le ondate di calore che ora hanno colpito la Spagna, nell'aprile più caldo di sempre, l'estate scorsa è stata la più calda di sempre in Europa, uccidono gli anziani, uccidono gli anziani esattamente come il Covid uccideva gli anziani, quindi non c'è un interesse generazionale per cui se hai 20 anni questa cosa ti interessa, ma se ne hai 60 non ti riguarda, è proprio una lettura che andrebbe superata. Anzi, addirittura si pensa a quelle generazioni che ancora non esistono, cioè si parla a nome anche di quegli esseri umani che non sono ancora nati e che però si vedranno addosso il peso ancora più forte di tutto questo. Speriamo non così forte, nel senso che speriamo che nel frattempo vengano prese le decisioni necessarie. Tu hai citato appunto il tema del colonialismo anche all'interno di questo testo e anche qui forse l'utilità proprio di un libro come questo è anche di fornire delle immagini lampanti, insomma raccontare i fatti, sì certo, ma anche fornirci dei quadri dentro i quali ragionare. Tu parli per certi versi, non so se dici esattamente queste parole di seguito, però il concetto è questo, quello di colonialismo dell'aria, cioè di conquistare l'aria nel nostro agire appunto con combustibili fossili, nel nostro sistema economico è come se avessimo colonizzato l'aria, come se avessimo colonizzato il clima e qui voglio soffermarmi su un altro tema, perché tu parli di clima in questo libro in modo molto particolare, non tanto come concetto astratto, non tanto come definizione scientifica di clima, ne parli quasi come se fosse un elemento fisico, come se fosse una materia prima che noi abbiamo sfruttato per certi versi, insomma non so se è esattamente una domanda alla fine di questa realizzazione, però insomma è un punto di vista particolare ma prezioso questo inquadramento. Sì, alla fine secondo me dobbiamo abituarci a percepire il clima come un grande bene comune, è un bene comune al quale tutta l'umanità attinge, ha attinto e può attingere, perché tutto quello che siamo come esseri umani, l'agricoltura, la costruzione delle città, l'aumento dell'aspettativa di vita, tutto dipende dal fatto che a un certo punto nella storia il clima si è stabilizzato, si è stabilizzato, ha creato una finestra di possibilità che ha permesso tutto e questa stabilizzazione del clima è andata avanti fino di fatto a questo secolo, quando il clima ha iniziato a rompersi, ora ha iniziato a rompersi non in senso riflessivo perché sono i cicli, abbiamo iniziato a romperlo noi con le emissioni di gas serra e quindi è come se fosse una grandissima bacinella che noi stiamo riempiendo, soltanto che non la stiamo riempiendo tutti allo stesso modo, perché la stragrande maggioranza delle emissioni di gas serra che hanno rotto il clima per tutti l'hanno rotto in pochi, quindi noi abbiamo una piccola parte dell'umanità, meno del 20% che ha rotto il 90% del clima ed è per questo che parlo di colonialismo, perché non tutti i paesi, non tutti i popoli e non tutti gli esseri umani hanno contribuito allo stesso modo a questa catastrofe, quindi c'è anche una storia di responsabilità e quando si parla, un altro concetto che secondo me è utile per capire cos'è il clima è una cosa di cui si parla alle conferenze internazionali dell'ONU e alla comunità scientifica che è l'idea di budget, noi abbiamo un budget climatico, cioè un limite oltre il quale non possiamo andare di emissioni di gas serra, superato quel budget l'atmosfera si spacca e noi siamo vicini a quel budget e quel budget l'abbiamo consumato noi, quindi se ci sono 10 esseri umani sulla terra, 2 di questi 10 esseri umani, cioè noi, hanno consumato il 9 pezzi su 10 di questo budget e quindi questo è il problema di avere un bene comune che però in pochi hanno usato tantissimo, in tanti hanno usato pochissimo, ma che causa danni a tutti, questa è la complessità dei cambiamenti climatici, perché poi nell'atmosfera la particella di CO2 che emetto io e quella che emette una fabbrica cinese e quella che emette una nave cargo, poi non portano quell'etichetta lì, non c'è la particella italiana che colpisce l'Italia, quella cinese che colpisce la Cina e quella ugandese che colpisce l'Uganda, il clima poi si rompe nella sua interezza, cambia nella sua interezza e quindi poi le conseguenze, le cause sono sempre locali, ma le conseguenze sono sempre per tutti indiscriminatamente e poi ovviamente vanno sulla vulnerabilità dei diversi paesi, per cui i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale senza confini, ma è ovvio che in un paese povero, in un paese vulnerabile, in un paese non sviluppato fanno molti più danni che in un paese sviluppato, questo senza illuderci che lo sviluppo ci protegga e poi la chiudo perché dobbiamo ricordarci questa cosa qui, che nel mondo ci sono per geografia, per la forma dei paesi, luoghi più vulnerabili e uno dei luoghi più vulnerabili al mondo è l'Europa meridionale, che si riscalda al doppio della velocità globale, il che vuol dire che se nel mondo abbiamo un problema che misura uno, qui misura due. Esatto, sì, è difficile smentirti guardando a quello che sta succedendo in Italia di recente dove abbiamo contemporaneamente la siccità e le alluvioni mortali, quindi insomma già solo le ultime settimane purtroppo ti danno decisamente ragione. Allora, siamo riusciti giusto a grattare la superficie di questo libro, a toccare alcuni temi, libro che appunto si intitola Primavera ambientale, l'ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra, è pubblicato dal Margine e viene presentato quest'oggi a Torino, lo ricordo ancora una volta, insomma nel caso vi foste perse l'inizio dell'intervista, alle ore 18.30 in via Sestriare 34 a Binaria. Ferdinando, ti chiederei altre 100 domande ma per oggi la chiudiamo qui, grazie mille davvero e buona fortuna, buona giornata. Grazie, grazie Alessio, grazie a tutti e per chi c'è ci vediamo stasera a Torino Binaria.